C'è una città che è riuscita a rinfrescare le sue strade di due gradi. Come ha fatto? Ha installato dei megacondizionatori? Ha fatto più avere ghiaccioli? No, ha fatto una cosa molto più semplice. Ha piantato questi lunghi corridoi verdi fatti da decine di migliaia di alberi e milioni di piante più piccole che hanno trasformato le strade da inferni calienti a piccoli paradisi urbani naturali. Ti piacerebbe fosse in Italia, eh? Non lo è. Questa è Medellin, la seconda città più grande della Colombia. In un altro video avevamo visto che esistono tecniche per rinfrescare le case senza sprecare energia grazie al raffrescamento passivo e ai principi dell'architettura bioclimatica. Ma possiamo rinfrescare allo stesso modo anche città intere? Sia che tu ti stia squagliando o ti stia mettendo un cappotto, sto per mostrarti come le città possono affrontare le temperature in modi che ci danno tanta speranza per il futuro. Se ti piacciono queste storie e ci hai appena scoperto, iscriviti al canale. È una delle poche cose che non ti faranno sudare. Se girassi per le strade di una città con un visore a infrarossi, probabilmente vedresti questo. Questa era Roma a giugno 2024, ripresa dalle telecamere a infrarossi dei volontari di Greenpeace. Quelle che vedi sono le temperature delle superfici, come strade, panchine e muri. In molti dei punti inquadrati le temperature superavano i 50 gradi. Dobbiamo ammetterlo, più che cittadini siamo naufraghi che vivono su isole di calore urbane. Cosa significa? Se prendiamo il profilo di una città, larghiamo lo sguardo e tracciamo una linea che indica le temperature medie che si registrano lì e nei luoghi circostanti, scopriamo che la differenza in media può andare dai 4 ai 10 gradi. Lo vedi qui dove le temperature sono più alte, che sembra un'isola? Ecco, questa è l'isola urbana di calore, un effetto che si verifica in ogni città del mondo. I motivi per cui una città è più calda dell'ambiente che la circonda hanno a che fare con i materiali di cui è fatta, gli spazi su cui è sviluppata e ciò che facciamo noi al loro interno. Le città sono piene di superficie e materiali che catturano calore, come l'asfalto, il calcestruzzo, l'acciaio, e lo rilasciano notte e giorno amplificando le temperature. Il fatto che siano scuri non aiuta, perché il grigio e il nero assorbono maggiormente la radiazione solare. La distribuzione di vie strette tra edifici alti crea trappole per l'aria, che ristagna immobile. Ci sono poi i motori dei mezzi privati, che la scaldano ulteriormente, e così anche i sistemi di riscaldamento domestico. In estate, paradossalmente, i condizionatori che rinfrescono l'interno degli edifici spostano il calore verso fuori, proprio sulle strade. E non dimentichiamoci i rider che portano le pizze, che ogni volta che aprono il box emanano quel vapore che... Ok, questo probabilmente non è influente, ma... ho un po' di fame. Essere un naufrago su un'isola di calore non è facile. In città più calde i rischi per la salute si moltiplicano. Il caldo eccessivo è una minaccia gigante per le persone. Nel solo 2022 ha metuto più di 61.000 vittime in Europa, con l'Italia tristemente al primo posto di questa classifica. Secondo le stime dell'Unione Europea, il calore estremo potrebbe causare fino a 96.000 vittime ogni anno, se non saremo capaci di arrestare l'aumento delle temperature medie globali. Non lo diressi mai, ma tra l'uvione, tempeste violente e altri eventi estremi, è proprio il caldo essere il più letale. Il caldo è quindi il nemico numero uno per chi vive in città. E lo sappiamo particolarmente bene qui nel sud dell'Europa. Pensa che Siviglia, la capitale della rovente Andalusia, è stata la prima città a iniziare a dare un nome alle ondate di calore, come si fa con gli uragani negli Stati Uniti. Proprio per identificare per tempo l'arrivo di questo fenomeno e tentare di prepararsi in qualche modo. Ma come possiamo proteggerci dal caldo in città? Guarda queste fotografie delle temperature di alcune città europee tra l'estate del 2022 e quella del 2023. Roma, Atene, Vienna, Praga, Parigi. Vedi quelle macchie verdi e blu? Sono i punti in cui le temperature sono più basse. E ma cosa c'è in quei punti di così particolare? Quelli sono i punti in cui è stata inserita una tecnologia incredibile, quasi magica. Si chiama vegetazione. Non so se l'hai mai sentita. Funziona così. Gli alberi più alti nelle strade creano ombra, che impedisce alla luce solare di colpire la pavimentazione e le altre superfici che altrimenti tratterrebbero quel calore. Con la traspirazione le piante rilasciano acqua nella forma di vapore, che trasporta in modo circolare il caldo verso l'alto. La presenza di parchi che mantengono il suolo umido e di corpi idrici come sanni e laghetti permette poi all'area di scambiare calore con l'acqua. Il risultato è incredibile. Guarda queste due viste a confronto presentate in uno studio del 2022 di Barcellona, Lipsia e Trento. In tutti e tre i casi, in corrispondenza delle aree coperte dalla vegetazione, la temperatura registrata è molto più bassa. Capito? Se riportiamo le piante in città, dalle quali storicamente le abbiamo scacciate, ci aiuteranno in modo super efficiente e a bassissimo costo a calmare le temperature. Un esempio superfacente di tutto ciò è Singapore, dove hanno effettivamente messo in pratica queste soluzioni in modo corposo e sistemico. Dal 2017 la città ha aperto un'unità di ricerca che utilizza date e scienza per scovare modi migliori con cui tenere a bada le temperature. Finora la città ha riempito le strade di alberi, ha tappezzato gli edifici di piante basse e medie, mettendole perfino sui muri come forma di isolamento termico. Inoltre edifici di varie altezze permettono di incanalare la brezza lungo le strade e alcuni tetti sono stati dipinti di bianco per sfruttare l'effetto riflettente proprio come succede nelle città del Mediterraneo. E per finire una rete di corridoi verdi e blu fatta di parchi e laghi arricchisce il tessuto della città. Come Singapore, anche Medellin, la seconda città più grande della Colombia, non è rimasta ferma a patire il caldo. Nel 2016 ha lanciato un programma per affrontare il caldo crescente in città. Con un budget di 16 milioni e 300 mila dollari, ha installato una rete di 30 Corredores Verdes, corridoi verdi per chi non parlasse lo spagnolo, ossia un'estesa copertura vegetale per 30 arterie stradali che attraversano la città. Dopo aver piantato milioni tra piante, piantine, decine di migliaia di alberi, già nel 2019 la città registrava 2 gradi in meno rispetto alle medie stagionali. Le autorità prevedono che più le piante e gli alberi raggiungeranno l'etamatura, aumentando la capacità di fare ombra e rinfiescare le strade, più le temperature scenderanno, addirittura di 4-5 gradi. Oltre ad abbassare le temperature, il programma ha anche incluso il rinnovamento di 124 parchi e dato una nuova casa alla fauna locale, favorendo il ritorno di uccelli, lucertole, anfibi, piccoli mammiferi che contrastano le specie più infestanti. Ha inoltre offerto quasi un centinaio di posti di lavoro a cittadini in difficoltà, coinvolti direttamente nella manutenzione di tutto questo verde, il che è fantastico. Sfruttare gli alberi per creare ombra e umidità nell'aria è sicuramente la strategia più adottata dalle città europee che stanno prendendo precauzioni contro le ondate di calore. Vienna per esempio ha messo in campo nel 2018 un piano urbano simile a quello di Medellin, con una fitta opera di piantumazione di migliaia di alberi ogni anno e muri verdi sugli edifici che fanno un isolamento termico per l'interno delle mura, rinfrescando nel frattempo l'aria esterna grazie alla traspirazione. Sì, perché ogni superficie può ospitare una soluzione al caldo. I tetti ad esempio. A Rotterdam è famoso il duck hacker, un tetto verde di quasi un chilometro quadrato che ospita una vera fattoria di frutta e verdura, con addirittura le api e gli alveari. Pensa che la città olandese nel 2021 aveva addirittura 46 ettari di tetti verdi. Anche la città svizzera di Basilea vanta una grandiosa copertura di tetti verdi. Nel 2019 si contavano 5,7 metri quadri per abitante. Ci sono esperimenti con il verde sulle pensiline dei bus, oppure con questi tendoni testati a Valladolid. Particolarmente cool, ma anche con superficie più riflettenti o fatte di materiali che restano più freddi. E ancora con pavimentazioni porose. Più si lascia respirare il suolo, più questo aiuta a tenere fresche le strade, oltre ad essere un ottimo modo per rendere la città più spugnosa. E quindi quando piove forte è meglio per la popolazione. Ne abbiamo parlato in un altro video. È importante capire che in tutti questi esempi le soluzioni risultano più efficaci e giuste quando sono diffuse su intere aree urbane. A Barcellona da diversi anni si lavora sulle superillas o superblock, che sono interi quartieri in cui le strade vengono chiuse al traffico delle auto per liberare spazio da dare ai dehors delle attività commerciali, ma anche alle piante che creano una copertura per i pedoni. A Parigi invece l'amministrazione ha creato una rete di cool island, ossia delle isolette in cui i cittadini possono andare a ripararsi dal caldo. Sono anche state mappate su un'app specifica scaricabile sul telefono. Ottima idea. Nelle cool island parigine rientrano anche le piscine pubbliche. E questo perché non sono solo le infrastrutture verdi a tenere fresche le città, ma anche quelle blu. La presenza di acqua in città è fondamentale, infatti sono incluse nelle strategie di Vienna, di Singapore. A Seoul, in Corea del Sud, è stato ristabilito il Chung-Gye-Chun Stream, un corso d'acqua che attraversa alcuni quartieri e che ha aiutato a ridurre la loro temperatura tra i 3 e i 6 gradi. Pensa invece che Atene e Grecia hanno in mente un piano per ristabilire un antico acquedotto romano e far così viaggiare sottoterra l'acqua per usarla come una sorta di serpentina del frigorifero. Geniale! Attenzione, proteggerci dal caldo delle città non è un capriccio. L'effetto di temperature sempre più alte è una minaccia enorme alla vita di tutti noi che le abitiamo, soprattutto dei più vulnerabili come anziani e bambini. Secondo questo recente studio richiesto dalla Commissione Europea, aumentare del 30% la copertura arborea nelle nostre città potrebbe ridurre del 40% la mortalità legata alle ondate di calore e permetterebbe di ridurre ancora di più la necessità di raffreddare le singole case consumando energia e la spesa sanitaria pubblica per l'inquinamento. Caldo e inquinamento, infatti, sono due problemi che il verde e il blu cittadino affrontano in un colpo solo. Il progetto dei corridoi verdi di Medellin non a caso nasce innanzitutto in risposta ad una preoccupazione sempre più grande dei cittadini riguardo all'aria che era diventata irrespirabile per lo smog. Medellin, infatti, si trova nella Valle d'Aburrà, la cui conformazione geografica imbottiglia l'inquinamento atmosferico e rende molto difficile la dispersione delle particelle dannose. Perché mi ricorda qualcosa? Quindi, raffreddare le città è possibile grazie a un cocktail di ombra, vegetazione, acqua, geometria degli spazi, materiali e colori, accompagnato da mobilità intelligente, risparmio energetico e, perché no, qualche nocciolina. Implementare tutto ciò è sfidante. Bisogna trovare lo spazio per mettere a terra queste infrastrutture e la sapienza nella loro progettazione, ma anche nella cura per poi mantenerle funzionanti. Come spesso accade nelle nostre città, gli alberi fanno presto a cadere o a seccare se non vengono curati bene. E con l'avanzare del riscaldamento globale, tra andate di calore, tempeste violente e altro, diventa sempre più impegnativo proteggere queste soluzioni. Comunque, i casi positivi, come abbiamo visto, non mancano. Ti chiedo anzi, quali di questi esempi hai già visitato o visto con i tuoi occhi? E come ti è sembrata l'aria quando eri lì? Faccelo sapere nei commenti, anzi, segnalaci quelli che tu conosci e che non abbiamo citato. Possiamo approfondirli in un prossimo video. Poi ricordati, come sempre, di lasciarci un like, di condividere se ti è piaciuto questo video e di seguirci. Questo tipo di supporto è il nostro modo per capire che stiamo facendo un buon lavoro. Al prossimo video! Grazie a tutti!